Questa è Torino, siamo sulla piazza delle grotte. Da lì ma il cazzo anche se è un pugno facile. Ma un po' di diacqua qualcosa, va. La via provinciale, la via provinciale, la via provinciale, la via assa. Davanti al ferramenta, dico. La ferramenta, la ferramenta, la ferramenta. No, non so, hanno preso un ragazzo di me. All'occhio gonfio gonfio, meglio che faccia in fretta a venire. Sì, è qua vicino a me. Un po' d'acqua, non c'è. Dove ce l'hai? Ti chiedono tutte le cose. Mi stanno chiedendo tutto. No, sangue no, ha solo l'occhio gonfio. E però c'è uno col sangue, dal naso, diglielo che c'è anche... Cazzo di merda. Allora, è cosciente, è cosciente, ragazzo. Ma la targa era savona, eh comunque. La targa era savona. Respira, respira, sì. Ha solo l'occhio che è completamente chiuso perché gonfio. Vomito. E li viene da vomitare? Dagli un po'. Eh, ok. Facci il ghiaccio su voi. Allora, ha detto di metterti seduto. Sì, mettiti seduto. Adesso ha messo il ghiaccio. No, guarda, io mi sono fermato che ero a correre. È andato via. Adesso è rimasto solo lui. È la chiave del capanone. Sì, sì. La scacciolta. Non ho perso l'olio. No, no. Non ho perso l'arma. No. Avevano un bastone. Ti avremmo spiegato di fare un bastone. Col bastone. Sì, avevano un bastone. La targa comunque c'è l'olio.